Allora dicevamo Andiamo avanti qua, ci abbiamo Una bella puntata oggi Su GTA San Andreas, uè a bello Non è che mi presti la macchina Grazie, levate un po' dal cazzo Vai, andiamo Ah, cazzo, pur i puliziotti che ci rompono al cazzo Oggi Vabbè, vabbè, non è un problema Vai Bella veloce qua sta macchina Bella madonna In balestra? No, no, io lo voglio far diventare Bello ciccione E ho capito, ma tu me ti butti addosso, cazzo Ma me si butta addosso Ah, vabbè Io non so se fare prima GTA 4 Prima di portare GTA 5 Non lo so onestamente Io GTA 4 mai fatto, ragazzi Non so neanche Non sapevo neanche l'esistenza di GTA 4 Non sapevo neanche l'esistenza di GTA 4 Che brutta la remastered Ma non è vero, dai Guarda che molto bella, eh Forse è un po' troppo facile a livello del gameplay Forse perché essendo la remastered è molto più fluida Soprattutto da mouse e tastiera Forse è molto più facile rispetto al joypad Che c'avevano i classici comandi Cioè questa qua, tu, il mouse Quando spari C'hai C'hai la visuale che Insomma Come se giochi a un gioco FPS Ecco Invece sul joypad Non so se vi ricordate C'erano le freccette Ed era molto più Tutto c'è in gioco Ora abbiamo bisogno di prendere un'armor E la rispettare con il logo di Caligula Perché non ci stiamo stiamo iniziando A presto, per il tempo si può fare più di bambini No, non voglio prendere la cronazione In qualche strada di jack E' un po' di... Ho una idea Hai mai visto i tue helicopterie Che usano per riparare pesanti Si, si chiamano le freccette Poi potremmo le freccette E' un po' di sicura A presto, bisogna spettare un freccette Non è vero Non ho un pilota Tu pensi alla madonna Chi ci pensa? E ci penso io Oddio Dio di Cristo 007 ci sei Allora ci sono alcune missioni che tipo ho fatto Poco tempo fa Non mi ricordo quanti giorni fa Ma che fanno veramente cagà Per esempio No cagà però non è realistica come cosa Per esempio quando Quando montava sopra l'aereo Alla 007 se affacciava E tipo E tipo Se tuffava dall'aereo E andava su quell'altro aereo Al volo Ma quando cazzo la vedi? Una cosa del genere dai Come fai a prenderci un po' di fantasia Un po' di robe Ma come fai a prendere sul serio un gioco Se poi ci stanno delle scene così Ma che cazzo dici? Veramente Sodi Mai vista una roba del genere So che quella ditta lì Fa tipo Spesso cose del genere Challenge Cioè roba è così Cioè anzi è proprio specializzata in quella In record è così Però Che un essere umano Senza paracadute Senza niente Si tuffa E si aggrappa A quell'altro aereo Mi sembra veramente una puttanata Comunque Ah quelli si Quelli sono pazzi proprio Ma senza paracadute Impossibile Allora siamo arrivati Ma penso che è dentro Porca troia Ma come cazzo è possibile Porca troia Allora fammi vedere un attimo capì Che cazzo devo fa' su sta missione Io non ho capito Scusate Ma devo entra dentro? Dove cazzo sta la mia arma? Orca droia Spara un buon me Ma te Ma che cazzo è qua? No questo è impossibile Come cazzo è o fa' Ah devo rubare Devo rubare il jeep? Ok una volta rubata la jeep Che devo fa' Ma penso come scudo umano Devo farlo così Devo rubare la jeep Per quello Non muoio eh Ma come cazzo fai? Come cazzo se fa raga Sta missione di merda Come cazzo fai un cuore Come cazzo fai un cuore E'polla 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 Qua ci vorrei per lucecchino. Caramella in arrivo! You wanna get blasted? Che cazzo sono le scale? Queste sono le scale? Una porca troia. E da dove? Ma dove cazzo stanno le scale? Ma dove? Qua! E' la figa di mamata. E' la figa di mamata. Devo andarci con le caramelle. Porca Eva. Ma non mi ci fa arrivare! Non mi ci fa arrivare, ragazzi! Grazie mille! Mister Tirano! Ciao bello! Grazie! Va bene! Oh porcadroio Oh porcadroio Ragazzi non me ci fa entrare dentro qua Prende subito Mi sa che devo fare il giro per forza dentro E non ci sono neanche le scale Oh porcadroio Oh porcadroio Porcadroio Dai oh son monstri questi Ok Madalove Ma allora quale cose due Devo capire da dove cazzo sparano Non è che faccio cagarsi Io non capisco dove sparano Uh huh Oh porcadroio Oh porcadroio Ok Ragazzi lo capite che devo entrare dentro Devo ammazzare tutti qua Oh porcadroio Oh porcadroio Ma ci devo andare proprio di ignoranza qua per batterli Oh porcadroio Per cazzo stanno questi che mi stavano sparare Ok No questo è l'ultimo credo Oh porcadroio Ok Ferroio Ferro di covallo preso Attenzione sulla testa lì Lancia fiamme Oh porcadroio Oh mi tocca giro così per forza Oh porcadroio Questi fanno male Porca Eva Oh porcadroio Oh porcadroio Oh porcadroio Oh porcadroio Ok Ok Allora Allora Ok devo abbassare Perfetto Perfetto Andiamo 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 La parte più difficile è stata fatta ragazzi Oh porcadroio Minchia però se è difficile da portare questo Cioè non è che è difficile più che altro il fatto è che Ehm Va piano capito Ma chi ha scritto quel ragazzo che è stato Non ho capito Non ho capito Aspetta un attimo il controllo eh Stando qua si deve alzare ancora adeguata questo Vado a fare dei carry a mano Beh dai Gaia killa non mancherà a nessuno Il fatto che hai donato le sub non mi pensa che Non penso che sia un commento né ironico Né che sia ironico E né che possa essere scritto ecco Mo il fatto che hai donato nessuno te Te dice che puoi scrivere quello che ti pare ecco E comunque non c'è stato bannato c'è stato timeattato Ah no? No 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 la prende non lo so mi sembra un grandissimo maleducato a prescindere se mai donato le sub o meno allora e porca troia ma questo si muove come una trottola qua spero che non ci sta nessuno dentro perché sennò stasera mi sa che mi sa che non si mangia se ci sta qualcuno dentro aspetta un attimo che finisce un attimo il trottola qui ok dai non era facilissima eh non era per niente facile gg si ma nell'elicottero per tornare in città adesso c'è aspetta qua mi stai a dica adesso non ci stanno più missioni ah eccolo Ma devo andare a prendere quella La Madonna di scheda O è una missione secondaria questa Il dollaro non c'è più Devo per forza sedurre quella donna lì? De ieri? Devo per forza sedurla? O è una missione secondaria? E allora qual è la missione di adesso? Questa qui? Ah Sabato Madonna santa Ma quindi mi tocca fare tipo le missioni con l'aereo adesso? O lì Sì sì appunto Quindi devo sedurre quella Devo sedurre Vediamo un attimo che cazzo vuole questo Che devo fare Carico pronto a partire Te pareva Una Madonna Ah è Namu Te pareva Madonna questo è difficile Allora qua Mettiamoci un attimo lì Sulla Cool What's the problem then? I said left light Allora Pronti signori Sì Arrivo Mayday Mayday Sto arrivando Yo Ok Stiamo iniziando ad andare Ok Belli precisi Yo Carrello D'atterraggio andato Andato via Perfetto Andiamo Sto aereo è difficile da guidare Borca troia In mezzo Vai Ok Bello preciso Ma che cazzo devo fare Devo guidare a basso Oh la feca della puttana Devo volare a basso Ah visibilità Guarda guarda la madonna Eh ma volare a basso Difficile cazzo Ma volare a raso terra È difficile eh La madonna Ma ste missioni così Stanno pure su GTA V Raga Ditemi la verità O sono su San Andreas Perché San Andreas È una figata queste GTA V Non lo so se ci stanno Ma penso di sì Perché Rockstar Non delude mai Anche più difficili Madonna ma passa a mezzo L'arberi Porca troia Dio Ed ho caffa come John Cena Qua come 007 Mission Impossible Cercate E' barco diavolo Ma vediamo che Pio un arbero Porca puttana Per cui dio Ho capito Ma come cazzo Faccio qua Per sganciare un carico Come faccio a scaricare un carico Vabbè Sta missione è impossibile Ma che cazzo ne so Com'è la ruota Per scaricar il carico Oggi Ma che cazzo ne so Non rispondi Ma che cazzo ne so Ssshhh O porco di dio Ooooooooh Eeeh Porca madonna Ma Ma Ora, ora, uno mi deve dire come se fa Sì, ma sei abbagato Minchia di Dio Serena me la trovo a fine corsia Minchia di Dio Ma puttana la madonna ma prima non erano invisibili porco di Dio Ma prima erano invisibili e ora sono visibili che cazzo è? No 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ma l'ergò a tru. Vabbè lo porto a mano Così che cazzo cambia Dai è uguale no Dai vabbè è uguale Sono preso sotto uno con la testa però Dai va bene così va bene Tutto a posto tutto normale GG Grazie Anzi no andiamo con quell'elicottero Beh spero che non ci stanno altre missioni simili Perché Ah what's the Reno 1 2 now I'm feeling a little exposed here What's your take on this Damn I thought them was your people Listen Carl We've got a problem Some traders from another department Think they can help the overseas situation By financing militaristic dictators In exchange for arms contracts Hey ain't that exactly what you do Well kind of But we get to pick our dictators Degenerates that we can control We try to stay the hell away from these guys With principles Cos that just muddies the waters Yeah okay Okay so Of course these idiots Have stolen a consignment of landmines And they plan to offload them In the Middle East And cause a little rock That scenario is crazy And have a lot of problem I mean Carl Do you like maybe Degi Curious Maiman Some people Shining We're the same Now yeah It's a dirty job But somebody's gotta do it But if you screw this up It causes a tinderbox situation All over Latin America And the Middle East Now look I spoke to the big man You got clearance To eliminate these fuckers How's that Huh Man kill government Kill Schmil Come on Don't look at it that way Think of it as pest control It works for me All right Come on I can't stay here now I'm too hip I gotta go Okay I'm out of here Come on I gotta go How much Do you die Do you oh Oddio The great day will come You know what this Magomi This doesn't concern you When I go I want to Idiotic Mammal Pardon Yeah Carbon-based buffoon So E' morto o no? I ain't backin' down Ancora Daaah It's your funeral, asshole Daaah Excuse me You evolved from Shrews E' morto, cazzo Daaaah Più adesso cazzo di porca di quella troia Ok, adesso Corri, 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 corri E' adesso Woohoohoo Gigi E' una madonna Change, ho capito una paralisi Oh, apri, 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 pia, nooo Porco Dio Oh Mannaggia, quella sbudellona della madonna Oh, affanculo vecchia de merda Ma lo sai che sei proprio una bella zoccola? Daaaah, comunque non è difficile Ma queste sono missioni vere? O sono missioni secondarie queste? Wooooow Oh, cazzo No, vabbè, di solito si Ah, voglio se ci capisco qualcosa Oh la madonna Un berzardo grosso qua Ah, ok, queste sono missioni principali, ok E allora andiamo là Andiamo subito dritto per dritto lì Anche se Ci servirebbe un giubbetto antipuglietti, un po' di roba Un po' di armi Via Ah, devo tornare più tardi, ok Allora, mo' vado a salvare poi Ah, no, io non ero qui da casa Sotto Sotto, sotto Sì, sì, qua sotto che fa schifo sta casa di merda qua sotto Questa fa schifo, mamma mia tutta zozza Che schifo di merda Tutta malandata Tra le 20 E allora ancora Ok, ora ci siamo Attendo che ti ritrovi sereno pure su TFT E non penso che quella gioca a TFT Una madonna Ma non sa manco come si usa Non sa manco come si usa C'è, un computer Non sa nemmeno come si accende Allora, Black Project Oddio, che cazzo era questo? Chi era? Hey, Truth, where are you? Just checking that you were no longer on government business Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil Hey man, you okay? Everything is transient Dio questo Dio questo Giu fronti me, man What's going on? Everything is going on Don't you get it? There's a place Not even on the map Here's a river The train is about to leave It can explain Better than I ever can Boy this is going to blow your fucking mind We got work to do You better drive I'll explain The elegance does not even touch it andiamo via 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 e chi si muove? Via 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 Area 51 però si chiama l'area 69 non 51 Grazie a tutti 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 Oh No 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 Ok Morti tutti tutti morti Vaffanculo Allora Come cazzo se leviamo questo Va Ma scusatemi Le porte No 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 Ma chi è sta gente? Nooo Dai riproviamo Che è che devo fa? Ah praticamente non devo farmi peccare da quello che ho capito No 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 E' un capo di stuparlo sotto l'identità 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 Ok Ok andiamo sotto vai GG Dai dai Ci sarà qualche figlio di puttana sotto? Nell'area 69 per avere accesso a Black Project Ok quindi devo sparare tutti Ok E' un capo di stuparlo sotto l'identità Ma che Dio Cristo è da dove? Morti tutti Ma che è sta macchina? Ma che è sta macchina? Sii merda! Ma che cazzo l'ha visto? Da dove? Porco de Cristo Ah ok da qua sotto Mi fa arrivare un gioco E' un capo di stuparlo sotto l'identità E' un capo di stuparlo sotto l'identità Ma che cosa faccio? Vedi cazzo Mokur mitra Voglio ridere io A Mokur mitra Una madonna come zompa Me ha dato cazzo ya che stas parada Ma in duria sono morti tutti Ma in duria sono morti Minchia Ma che furtina scheda Che cazzo la troviamo la scheda Ah eccola Tu puttaniere Te ne vai a fangulo troione Vai andiamo Ma non ce l'ho il No non c'ho niente Da sotto mi stanno a sparare questi Ma non ce l'ho Ma non ce l'ho Mind via gg si però aspetta fammi prendere un attimo ma io che devo fare qua si ma io qua non devo prendere più niente vero Gesù Cristo per un pelu de figa cazzo madonna per un pelu de figa cazzo per quanto poco ho la mia vita cazzo a voi non la vedete la vita però per un pelu de figa oh per un pelu mi toccava fa tutto da capo oh che cazzo è perchè non prende ma sto jetpack così con con le bombole ma esiste veramente nella vita reale io stai ad aria con l'acqua si va così col gas non credo che esiste no porco di dio no 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 te prego non ce credo ma no raga piedi fino a là a te ma ti piace lo pelo quasi che mi conviene farmi uccidere vero si mi conviene farmi ammazzare così almeno mi ritrovo ma che belli i pesci che belli i pesci ma che destino ma che destino ma che destino ma che destino poi prende una bella arma qua un bello bello fucile da pompa bello poi oh ma l'M4 costa così tanto cazzo ah se lo sapevo mica morivo ah la prossima volta non ci sarò più tempo ma io non mezzavo costasse oh no non mezzavo costasse così tanto l'M4 Cristo mondo cipersiani no 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 vabbè quali altre missioni impossibili mi darà da farla secondo voi quanto manca per finire il gioco con 5 ore finisce oh la figa della puttana come cazzo è possibile succedere in questo genere serena ma vi fa così ridere la storia di serena serena che non se lava lo buscio dello culo e nemmeno una fregna no no ma io che non spolieri niente più retorte missioni madonna una guante scusami che cazzo è qua sotto oddio ah era così facile ho letto marcia via quando lo finirai ti mancherà green gold che cazzo è ancora questo riscanzavo così e poi per cercare lo clitorio era tutta riccia capelli ricci pelosi fregna pelosa riccia è qualcosa di incredibile oh yeah what stuff i don't know yet oh you don't know yet i was starting to think you was a lunatic what you mean you don't know yet you'll be stealing the answer look fly the jetpack land on the train and steal whatever they least want us to get shh listen they're coming we better go peace on earth dude andiamo vuoi giocare faccio sta missione e poi te la lascio ok faccio 40 minuti fa dai faccio sta missione e poi te la lascio ok ho letto 4 e mezza sono le 5 e mezza eh lo so ma hai detto mi vuole andare a dormire 6 sei triste per sta cosa sì ma no ho letto 3 dai finisco sta missione e te la lascio il computer ok sono tante no ma che due ore è un'ora no ma che due ore è un'ora sparalo 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 ma c'è sto l'arbero come cazzo che tu li fai? Sì, è brutta. Ma non era sposata? Ma che sposata, fidanzata con uno più brutto di lei, porca? Non è sposata, l'ho messo soffeso. Ma che cozzo dici? Fammi vedere. Scuso con quello, non è sposata con quello. No, figanzata. No, 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 sposata. Oh, la mamma. Ma è brutto un gulo. Ma lei? Come da questo? Ma è tal simile se... Ma che cazzo fai? Ma prendono da dietro la straccionata! Ma non le sai fai le missioni! Ma di una modalità super facile, tieni. Ma non le sai fai? Ma che super facile è quella più difficile? Ma quando mai? Ma se giocavo io sparavo la destra e la sinistra, non ti capiva niente. Ma tu hai giocato stato Andrea? Ma è... Ma è... Quella super difficile, sparano... Sparano che tu non riesci a provare a fare tutto. Questo è super facile, in modalità. Ma stai pensando in me serena, pur... Oddio! No, ragazzi, veramente un gesso, eh. Giocavo quando tenivo 12 anni. E guarda, vi giuro che è inguardabile. Non è una situazione. È più meno come a me, però è un po' più. Bionda. Bionda e ricca. Mamma mia, sono le 5 e mezza. Scusa di domani. Ma chi sta sparando? Ma chi sta sparando? Ma non sta male. E' bionda, serena come a me. Tene l'occhio azzurri, beh. Scusa di domani. E' bionda. E' bionda l'occhiato. E' bionda l'occhio. Ma' nessuno è pieno. Ecco, non può essere... E' bionda! E' bionda. E' bionda. E' un po' che non è nulla. Mio. Ma non è più successo che è possibile. no cissi is on 10-20-37 in north east in Bowen County Siamo arrivati in Italia con questo drone E dai mo ci si mette pure la pianta del cactus La pianta del cactus Poi perché il centro è smirato nel sport calcini Benvenuto su GTA Siamo arrivati in Italia Sì Come on then, let's do this Come on tough guy Make your life long Ok Ok Ma tu non sai quando cazzo è difficile No ti giuro che è difficile Guarda che io ci giocavo, lo so com'è difficile E allora non di che è facile Ma tu si fa la modalità super facile Ma qual è la modalità super facile che sono tutte difficili, porca madonna No, sono facile, fidate Oh, che cazzo dici Lo subbulletro, lo cronometro qua davanti Wow Oh Ah aaaah super l'area 69 non ci si può passare no in realtà c'ho due stelle il problema è quello che è il due stelle? due stelle di ricerca è un cazzo no dai no la guancia un bacino dammi un bacino no un bacino sono le 5 e mezza su e muoviti tu e non è colpa mia valendo questo eccelera io il castiglio del diablo comunque raga una parte scherzi serena è riccia bionda con l'occhio azzurro è come a me però ho i capelli gialli ricci sposata porca troia quanto tempo fa sei sposata? ma che ne so ma io ti sto a dire a caso ma secondo me sei sposata perché ormai stanno insieme da 20 anni qui 20 anni che? dai sarò 12 anni che stanno insieme dai si sposata mi fa male lo vai a sinistra oh la madonna 10.000 dollari 20.000 dollari mi ha dato pure come si fa a togliere questo? come si leva? ok a f ok allora qua ho fatto tutto quello che mi manca adesso è questa era una missione più difficile penso non lo so quello che mi manca è qua è il dice il dice cioè nel senso il no quello che pensate allora il dice questo qui casi no il dice il dice il dice il dice no non quello che pensi te il dice qua vado a fa questa vado a fa dai me ne fa me ne fa n'altra cazzo n'altra cazzo le sei sono non ce ne puoi giocare a fortuna taffanculo tanto domani puoi fare tutte le ore che vuoi ma perché la devi fare nuove oh il 12 è